Ma dove sono questi mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Dov'è? Devi sapere che una faccia è come un paesaggio. Una faccia può essere un certino, oppure un bosco, oppure una terra desolata dove non ci cresce niente. Ci siamo stancati di aspettare. Qua bisogna fare qualche cosa. Ma lo sapete quanti voti prendiamo a Cinesi? Qualche decina. E voi pensate che con qualche decina di voti ci possiamo permettere di fare la voce grossa? Diventeranno anche meno se stiamo zitti. Stefano, quella poesia di Majakoski, la tua preferita, non rinchiuderti partito nelle tue stanze. Resta amico dei ragazzi di strada. E il cazzini se non si muove foglia, che tu a te non vuoi! Parola di Tano, seduto, grande capo di mafiapoli! O catechismo? Qual era il comandamento che tu mi ha insegnato? Non lo sai padre. Impastato! Qua sono. Lo sai chi ci capita qua? Camorino. Ah, un Zutano ci capita qua! Dio, parla piano. Cento passi ci sono da casa nostra, cento passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te! Salutiamo, Zutano! Tu non lo capisci? E se parli così, me li ti ammazzano. Ma se quelli mi ammazzano, tu che cosa fai? Oggigiorno basta un registratore e un antenino per fare il charlade. Ce ne saranno già mille in tutta l'Italia. A me basta che ci sentano accini, sì. Sì, quando c'è via! Sì, quando tira vento, quando c'è sole, quando c'è pioggia, quando non mi danno il permesso per fare un comizio, quando mi sequestrano il materiale. L'aria non ce la possono sequestrare!